Wuthering Heights Così si chiama la dimora del signor Heathcliff e l'aggettivo parla da sé facendo risuonare il tumulto atmosferico a cui sono esposte queste cime quando infuria la tempesta Certo l'aria deve essere sempre pura e corroborante quassù Si può ben immaginare la potenza del vento del nord quando soffia di traverso dall'estrema inclinazione dei pochi abeti stenti in fondo alla proprietà e da una serie di sparuti biancospini che protendono tutti i rami in un'unica direzione come a elemosinare un po' di sole Per fortuna l'architetto ha avuto la lungimiranza di costruire la casa ben solida Le strette finestre sono incassate nei muri e gli angoli rinforzati da grosse pietre aggettanti Prima di varcare la soglia mi fermai ad ammirare la profusione di grottesche che decorano la facciata soprattutto intorno alla porta principale sopra la quale in mezzo a un intrico di grifoni fatiscenti e putti sfrontati avrei fatto qualche commento e chiesto allo scontroso proprietario una breve storia del posto ma dalla posa che assunse davanti alla porta era chiaro che dovevo entrare in fretta e furia o andarmene da dove ero venuto e non desideravo certo aggravare la sua impazienza prima di aver esaminato il suo Sancta Sanctorum Bastò un passo a introdurci nella sala senza dover passare per un atrio o un'anticamera è quella che da queste parti per lo più chiamano semplicemente la casa di solito comprende un salotto e la cucina ma credo che a Wuthering Heights quest'ultima sia relegata da tutt'altra parte o almeno il chiacchiericcio e l'acciottolio di stoviglie che udì provenivano da qualche recesso più profondo dell'abitazione e non notai nulla posto ad arrostire, bollire o cuocere nell'enorme camino nessun luccichio di rame o di stagno nessun tegame o colatoio appeso ai muri su un lato in effetti dentro una gigantesca credenza di rovere alta fino al soffitto si levavano una sopra l'altra file torreggianti di immensi piatti di peltro mischiati a caraffe e boccali d'argento che emanavano uno splendido riverbero di luce e calore il tetto aveva le travi a vista e la sua anatomia si offriva completamente nuda alle esplorazioni dell'occhio salvo dove era occultata da un asse di legno carico di gallette d'avena, di cosciotti ammassati di manzo o montone e di prosciutti appesi sopra il camino c'erano alcuni schioppi dall'aspetto ben poco raccomandabile e un paio di pistole da sella e allineati sulla mensola a mo' di decorazione tre recipienti smaltati a colori sgargianti il pavimento era di pietra bianca levigata le sedie con lo schienale alto erano rustiche e dipinte di verde e nella penombra se ne scorgeva un altro paio nero e pesanti al riparo sotto la credenza era distesa un'enorme femmina di pointer circondata da una nidiata di cuccioli uggiolanti altri cani erano appostati qua e là la stanza e la mobilia non avrebbero avuto niente di straordinario se fossero appartenute a un semplice allevatore del nord dall'aria cocciuta e dalle gambe robuste messe in risalto da brache al ginocchio e dalle ghette un esemplare simile seduto in poltrone con un boccale di birra schiumoso posato sul tavolino davanti a sé lo vedete dovunque nel raggio di cinque o sei miglia tra queste colline se ci andate all'ora giusta dopo pranzo ma il signor Heathcliff contrasta singolarmente con questa dimora e questo stile di vita ha la pelle scura e l'aspetto di uno zingaro e abiti e modi da gentiluomo o per meglio dire da gentiluomo come lo sono molti di questi proprietari terrieri un po' trasandato forse e piuttosto torvo ma grazie al portamento eretto e alla figura ai tante non troppo fuori posto nella sua trascuratezza forse qualcuno penserebbe che vi sia in questo un certo grado di volgare presunzione ma il cuore mi dice che non è nulla del genere so per istinto che il suo riservo nasce da un'avversione per i sentimenti esibiti le manifestazioni di reciproca cortesia proverà amore e odio entrambi di nascosto e considererà l'essere ricambiato una specie di impertinenza ma no sto correndo troppo gli sto attribuendo con eccessiva libertà le mie stesse caratteristiche mi sedetti al capo opposto del focolare rispetto a quello verso cui si stava dirigendo il mio padrone di casa e colmai l'intervallo di silenzio cercando di accarezzare la puerpera che aveva abbandonato la sua nidiata di cagnolini per avvicinarsi quatta quatta ai miei stinchi come un lupo con l'abbro arricciato sui denti bianchi schiumanti pronta ad azzannarmi la carezza provocò un lungo ringhio gutturale lasciate stare il cane, meglio latrò a sua volta il signor Heathcliff evitandomi ulteriori dimostrazioni di ferocia con una pedata alla bestia non è abituata a essere viziata mica la tengo per farmi compagnia poi, marciando a grandi passi verso una porta laterale gridò ancora Joseph! Joseph borbottò qualcosa di indecifrabile dal profondo della cantina ma non diede segno di voler salire allora il padrone scese di corsa lasciandomi vis-à-vis con quella cagnaccia e un paio di truci arruffati cani da pastore che assieme a lei mi tenevano d'occhio guatando ogni mio movimento tutt'altro che ansioso di assaggiare quei denti me ne stavo immobile ma immaginando che non avrebbero compreso i miei taciti insulti mi lasciai malauguratamente andare ad ammiccamenti e sberleffi ai danni del terzetto e una o l'altra delle mie smorfie irritò a tal punto la signora che di botto divenne una furia e mi balzò sulle ginocchia la ricacciai indietro e mi affrettai a mettere il tavolo tra noi due questa azione risvegliò tutto il branco una mezza dozzina di demoni a quattro zampe di varia età e taglie sbucarono dalle loro tane nascoste per palesarsi al centro della stanza mi accorsi che a essere sottotiro erano soprattutto i miei calcagni e i risvolti della mia giacca e respingendo come meglio potevo gli aggressori più grossi con un attizzatoio fui costretto a implorare a gran voce l'aiuto di qualcuno della casa che riportasse la pace Heathcliff e il suo uomo salirono le scale della cantina con una lentezza irritante non accelerarono nemmeno di un secondo rispetto alla loro abituale andatura, credo nonostante la cagnara che imperversava dalla cucina furono più solleciti, per fortuna una vigorosa fantesca con le braccia nude e le guance arrossite piombò in mezzo a noi alzandosi la sottana e brandendo una padella e usò quell'arma e la lingua con un tale effetto, con una tale efficacia che la tempesta si placò come per magia e quando entrò in scena il padrone rimaneva solo lei gonfia come il mare dopo una bufera di vento che diavolo succede? che diavolo succede? domandò lui squadrandomi in un modo che faticai a sopportare dopo quell'accoglienza davvero? cosa diavolo succede? borbottai un branco di porci indemoniati non potrebbe essere di umore peggiore delle vostre bestie, signore a questa stregua potreste anche lasciare gli ospiti con una torma di tigri non fanno male a nessuno a meno che non lo vedano toccare qualcosa commentò posandomi davanti una bottiglia e rimettendo a posto il tavolo i cani giustamente fanno la guardia un bicchiere di vino? insomma signore risposi spero comprendiate che la signora Heathcliff è abituata a essere servita e riverita e che è stata cresciuta da figlia unica con tutti quanti pronti a compiacerla dovete procurarle una cameriera che tenga in ordine le sue cose e dovete essere gentile con lei qualunque opinione abbiate del signor Edgar potete star certo che lei è capace di grandi affetti altrimenti non avrebbe lasciato le raffinatezze gli agi e gli amici della sua vecchia casa per stabilirsi di buon grado in un luogo selvaggio come questo con voi ha abbandonato tutto quanto perché è vittima di un'illusione ribatte lui mi immaginava come l'eroe di un romanzo cortese e si aspettava un'indulgenza illimitata dal suo devoto cavaliere non posso certo vederla come una creatura razionale tanto sia ostinata a fare di me un personaggio fantastico comportandosi in base alle assurdità che si era messa in testa ma credo che cominci a conoscermi finalmente non colgo più quei sorrisetti e quelle smorfie che mi irritavano da principio e quell'ottusa incapacità di rendersi conto che dicevo il vero quando le spiegavo cosa pensavo della sua infatuazione e di lei è stato un mirabile sforzo di perspicacia da parte sua accorgersi che non l'amavo a un certo punto mi ero persuaso che non ci fosse lezione in grado di insegnarglielo e però ancora stamattina questa zuccona mi ha annunciato come se mi desse una notizia ferale che ero riuscito a farmi odiare da lei un'autentica fatica di Ercole te l'assicuro se ce l'ho fatta posso solo ringraziare il cielo ma devo fidarmi delle tue parole Isabella sei sicura di odiarmi? se ti lascio sola per mezza giornata non mi verrai a cercare con i tuoi sospiri e le tue moine avrebbe preferito che davanti a te mi mostrassi tutto miele mi sa la nuda verità è una ferita al suo carattere vanitoso ma a me non importa di far sapere in giro che la passione era tutta da una parte e io su questo non le ho mai mentito non può accusarmi di averle mai mostrato anche solo un pizzico di falsa tenerezza la prima cosa che mi ha visto fare mentre ce ne andavamo da Traskros Grange è stata impiccare la sua cagnolina e quando mi ha supplicato di non farlo le mie prime parole sono state che avrei volentieri impiccato tutti i suoi congiunti tranne uno e forse ha creduto di essere lei l'eccezione eppure non c'è violenza che l'abbia disgustata credo che anzi nutra un'ammirazione innata per questa qualità a patto che non ne venga toccata la sua preziosa persona ora dimmi tu non è il colmo dell'assurdità non è una prova di idiozia bella e buona che questa bestia spregevole, meschina, vile si sia sognata che io la potessi amare di al tuo padrone Nelly che in vita mia non ho mai incontrato un essere abbietto come lei infanga persino il nome dei Linton e pensare che qualche volta per pura mancanza di fantasia ho rinunciato ai miei esperimenti per vedere che cosa fosse in grado di sopportare prima di tornare da me strisciando vergognosamente come un servo ma digli anche affinché il suo nobile cuore di fratello non abbia atturbarsi che mi mantengo rigorosamente entro i limiti della legge e fin qui ho evitato di darle il minimo appiglio per pretendere una separazione oltretutto lei non sarebbe certo grata a chi provasse a dividerci se decidesse di andarsene sarebbe libera di farlo perché il fastidio che mi provoca la sua presenza supera la soddisfazione che mi venga dal tormentarla è il momento che mi lavora di farlo oltretutto lei non mi rende oltretutto lei non mi rende il